Ben trovati nell'angolo dello sport, brevi riflessioni di fine anno ma proprio brevi. Da una parte abbiamo il duo Sebastiani e Iannascoli con il loro braccio di ferro che dovrebbe portare a breve una risoluzione all'interno della società. Iannascoli è dimissionario ma ha cercato di prendere il controllo di tutta la società chiedendo a Sebastiani di vendergli le quote e quindi di avere la maggioranza. Sebastiani non ha voluto assolutamente perché pensa che con la Padula e Caprari e soprattutto con la questione stadio di poter risolvere a breve i tanti problemi che ha sia calcistici che extracalcistici che lo tengono un pochino troppo in ambasce e che non gli fanno sicuramente dormire sonni tranquilli. Del resto Sebastiani punta molto sullo stadio e c'è di mezzo il problema della ricapitalizzazione. La domanda che ci si pone è ricapitalizzeranno tutti compreso Danilo Iannascoli? Danilo Iannascoli sembrerebbe non voler ricapitalizzare. Qualcuno dice ma come fa? Se fa in questo modo perde tutto ma non perde niente perché lui ha un'esposizione in credito con la società di circa un milione di euro ma è un prestito alla società e quindi è un suo credito che potrà avere quando vorrà e quando la società potrà. Del resto questa è una realtà della Pescara Calcio quindi questo braccio di ferro all'interno della società. Poi invece dall'altra parte c'è il gruppo capitanato da Oddo che sta andando molto bene. Pescara ha 37 punti, il quarto posto in classifica, ha giocato 21 gare di cui 10 in casa e 11 fuori, 11 vittorie, 7 in casa e 4 fuori, 4 pareggi, 2 interne e 2 esterne, 6 sconfitte, una sconfitta in casa e 5 fuori casa, 29 gol fatti e 23 subiti. Ecco questo è l'unico numero negativo, i 23 gol subiti perché tra le prime 8 della classifica, cioè quelle che al momento attuale sarebbero con un piede ai playoff, siamo la sesta difesa, peggio di noi soltanto Avellino e Brescia. Eppure il Pescara ha un merito enorme che ha battuto le prime due in classifica, Cagliari e Crotone e quindi si trova ad essere così, veramente con una grossa soddisfazione. Le presenze, vi ricordo soltanto rapidissimamente il portiere che ha avuto più presenza è Fiorillo con 16 presenze, parlo di presenze da titolare, cioè partiti dal primo minuto. In difesa è Zuparic con 21 presenze, a centrocampo Benalì con 17 presenze, all'attacco la Padula con 20. La Padula oltretutto è stato nominato, ha vinto il pallone d'oro abruzzese. Quindi ritorniamo e chiudiamo con la questione societaria. Devono risolvere i problemi questi due signori che ho alle mie spalle, Daniele Sebastiani e Danilo Jannascoli. Certo è che molti si chiedono il perché di questa lotta che è diventata una lotta serrata, forte, però del resto chi conosce le cose interne della Pescara Calcio, chi ha avuto la possibilità di leggere i bilanci del Fino Pescara 1936, sa che Danilo Jannascoli ha molti motivi di revancismo nei confronti di Daniele Sebastiani, il quale con la teoria del copresolco ha tentato in questi ultimi mesi di salvare il salvabile, ma come si dice i nodi alla fine arrivano al pettine. Chiudiamo qui un affettuoso abbraccio a voi tutti come sempre e vi auguro salute e lavoro retribuito, perché credo che per l'uomo oggi come oggi la salute e il lavoro siano le cose più importanti. Poi un affettuoso abbraccio va ad Adriano Masciarelli, impegnato collaboratore alla telecamera, al regista Leo Di Blasio e al direttore Raffaele Gianzante. Un abbraccio a voi tutti come sempre, appuntamento al nuovo anno. A rifentirci, ciao a tutti. Grazie a tutti.